I chiavi da ripare a Martia di chat Aurora niente l'esco niente pugno niente pugno di faccia di chat di chat Martia fatti sentire i chiavi forza Aurora guarda a me di chat di chat andiamo a te allora prova le comi prova le comi calcio, guardia, ma la devi toccare, toccala, questi sono due punti, ma quando la tocchi, ok, vai, alza la guardia e prova, ma ti alza la guardia e prova, pugno pugno e calcio, vai, uno, due, è da riprendere però, avrora, prova le comi vittu, gru for vittu 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 vittu